e allora l'8039 colonie italiane collezione in due classificatori qua c'è questo appunto che dice di annulli dubbi senza gomma a gomma brunita calcolati al prezzo più basso tra usato e linguellato il committente dichiara 10.952 euro di valore di catalogo questi sempre sono annulli di favore sicuramente come anche questo se l'aggianti non sono ma 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 come inizio di collezione non c'è male assolutamente qui c'è l'Albania Montenegro Corfu Occupazioni inglesi delle colonie italiane dice qua che il totale dei due volumi è 20.000 euro di catalogo in generale non c'è Alla prossima! Emissioni per l'eisola Non miro se volete altre informazioni o video scrivete a filatelia